La pace è stata. Si è andata in una sua inizia, bilancia a tornare molto vicino. La scelta città città, calcio, il traccio in asfalto. Vediamo la curaccia da tutte per Sebastiano G, vediamo se Valentino prova l'attretto interna da circa. E anche lui ha scoperto l'attretto destra. Il tratto interno spazzolata per OG, questi sono dei civili lasciati sull'asfalto per Sebasiano C, giunta la vincenza vale, cassa, cassa, secondo il vantaggio francese, di quanto? Secondo me, non sta viaggiando, non sta viaggiando. Inizio, il vantaggio è stato il vantaggio, nel passato il presidente, ma dice che sembra da abbannaggio delle francese, ma vale può ancora recuperare sulla terra, molto molto al suoraggio, con la focus che risponde molto bene OG, quanta lì come ha stretto la curva, ha risparmiato un sacco di tempo OG che va a prendersi dall'era a scatti e vince Sebastiano in pari, c'è il contico da Rossi, ma quattro pa, vedo il giro del verde che vedi Giacomo di Portini.